Studi fruttuosi, formazione al passo coi tempi, giorni intensi tra i banchi di scuola che rappresentano al meglio l'attuale gioventù, la voglia di crescere e trovare un futuro migliore. L'Istituto di Istruzione Superiore Acciaioli e Naudi di Ortona, dirigente scolastico Marcello Rosato, continua infatti a proporre agli studenti un'ampia e variegata scelta tra gli indirizzi dei tre istituti, da studi tecnici di discipline nautiche, giuridiche e commerciali a studi nel campo dell'ottica, della moda e dell'elettronica. E dopo la ricorrenza dei cento anni del prestigioso nautico Acciaioli, stavolta i riflettori si accendono sull'Ipsia Marconi e sul tecnico commerciale e in Audi in due eventi. Le dieci candeline da spegnere sono per l'indirizzo ottico dell'Ipsia, l'unico nella provincia di Chieti e che dopo il percorso di studi rilascia il diploma professionale per ottici. Si tratta di uno dei più interessanti sbocchi professionali del nuovo sistema produttivo, un settore in continua crescita sia in territorio nazionale che internazionale. Il corso per ottici è un corso di qualità. In tutta Italia ne esistono pochissimi ed è per questo il fiore all'occhiello dell'istituto. Ragazzi seguiti con attenzione e cura da docenti, la professoressa Giuseppina Ramunno ed Emanuela Giambuzzi. Non sono classi numerosissime, sono delle classi abbastanza piccole, in totale sono più di cento studenti sui cinque anni, però questo ci permette di stare abbastanza vicino ai ragazzi, di seguirli molto da vicino nel loro percorso scolastico. Sono curioso di conoscere le materie che vengono insegnate qui, oltre a quelle chiaramente particolari. Quali materie studiate? Le materie che si studiano un po' in tutte le scuole, italiano, matematica, le scienze, la fisica e ovviamente poi le materie di indirizzo che sono quelle che specialmente nel triennio hanno la parte più importante perché è anche giusto così. Un buon ottico che caratteristiche deve avere? Beh intanto deve essere ben preparato, deve sapersi relazionare con le persone, deve avere un buon modo di fare, soprattutto penso che come tutti deve sapersi aggiornare continuamente perché è un mondo che cambia talmente in fretta che anche qui la capacità di continuare a studiare e continuare a imparare, sempre cose nuove. Al termine dei cinque anni si consegue il diploma di ottico e inoltre è possibile sempre in questo istituto effettuare l'esame di abilitazione, un esame estremamente importante perché abilita alla professione e molte aziende per l'assunzione richiedono appunto questo titolo di studio. Tra le discipline di indirizzo, contattologia, optometria, diritto commerciale, esercitazione di lenti oftalmiche, ottiche e fisiopatologia. Per i dieci anni dalla sua istituzione l'istituto ha festeggiato con convegni, sfilate e confronti di Mila Cantagallo le presentazioni, ribadendo un approccio allo studio sia pratico, grazie all'utilizzo di laboratori all'avanguardia, sia teorico con lezioni in aula. I veri protagonisti sono i ragazzi che ci accolgono con entusiasmo e che ci mostrano alcune loro principali occupazioni. Il nostro viaggio nei laboratori dell'Ipsia Con? Domenico Falasco. Domenico, allora, ma vediamo anche modernissime attrezzature che non mancano qui, vero? No, 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 assolutamente. Cosa ci fa vedere? Questa è una mola automatica che serve principalmente al montaggio dell'occhiale, montaggio che può essere una montatura di vario materiale, che può essere metallo, nilor o altro. E abbiamo visto dunque la mola che ha agito sulla lente seguendo le indicazioni ben precise che sono state date da questa apparecchiatura decisamente innovativa? Esatto. Niente, è una questione di pochi minuti, questo grazie alla tecnologia di oggi, che grazie a Dio ci aiuta. Questa richiede innanzitutto molto più paziente e tempo perché è un lavoro che appunto si svolge a mano e comunque ci vuole molta più precisione, bisogna ogni tanto provare la lente sulla montatura e vedere dove è necessario continuare a molarla e a sgrezzarla. Ecco, in questo caso ti senti davvero un artigiano? Sì, sì, sì. Margine di errore? Eh, il margine di errore è un po' più alto ma appunto perché è fatto tutto a mano e solo provando appunto ad inserirlo nella montatura. C'è la soddisfazione poi di provare la piena riuscita e sperimentare la piena riuscita? Quanto è grande? Eh, ma è molto più grande rispetto alla mano automatica che comunque è molto più semplice. Con Giorgia, questo che per i profani potrebbe essere un microscopio, invece di cosa si tratta? Di un frontifocometro ed è un strumento di misurazione che appunto ci va ad indicare il potere che ci dà la lente. In questo caso abbiamo una lente sferica e il suo potere è più 3, ma soprattutto serve anche per quando tipo noi dobbiamo andare a fare il montaggio e dobbiamo montare nella montatura, questa ci dice il centro di dove deve stare il punto. Qui si è andata tu ad occhio a fare le regolazioni, invece qui? Invece qui funziona allo stesso modo, noi andiamo a posizionare la lente, così, e poi siamo noi a sistemarla e quando questo frontifocometro ci dice c'è la croce è arancione e c'è entrata e poi qua sta il potere. Quante soddisfazioni provi nell'apprendere tutte queste cose? Tante. Quanti anni hai? 17. Cosa vorrei fare da grande? Io vorrei più che altro sperimentare con la macchinetta fotografica, quindi la lente più sulle macchinette fotografiche. Con Simona, con Simona i fornelli? No, no, questo è uno strumento che serve per colorare la lente, quindi dà la lente un colore unito oppure sfumato. Che facciamo? Coloriamo una lente e di che colore la facciamo? Di un colore scuro. Ok, quindi occhiali da sole? Sì. Vai. Quindi appunto immergiamo, facciamo stare per un po' e poi... Quanto tempo deve stare la lente prima di assumere la colorazione tipica dell'occhiale da sole? 5-10 minuti. E quindi si colora poi in maniera permanente? Sì. Questa è una lampada a fessura oppure viene chiamato anche biomicroscopio e viene utilizzata sia in contattologia che in oftalmologia. Serve per controllare il fondo oculare, gli annessi oculari che sono la cornea, il cristallino, la sclera, la congiuntiva e le palpebre. E inoltre ha dei vari test lacrimali e serve anche per controllare se una persona può utilizzare le lenti a contatto. Perché hai scelto questo corso? Perché mi piaceva molto moda e quindi ho voluto fare questo corso. Quindi da grande cosa vorrei fare? Mi piacerebbe fare la stilista. Nuove tecnologie e strumentazioni all'Ipsia ma anche la formazione tradizionale per futuri professionisti completi. Particolare attenzione ha suscitato la figura di un vero e proprio artigiano del mestiere. Siamo con Fabio che non è un abruzzese ma è un artigiano vero. Sì, io sono dell'Alto Trevigiano, Veneto, Doc e appunto vivo nella zona avvocata agli occhiali, al prosecco e agli occhiali. I mani sapienti che hanno saputo creare tutto questo. Sì, io ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare quando noi apprendisti potevamo sbagliare. E sbagliare vuol dire imparare soprattutto. E niente, lì sbagliando, sbagliando, sbagliando ho imparato a fare gli occhiali a mano. E questo succedeva 42 anni fa. E allora c'era la possibilità di perdere anche del tempo, fra virgolette. Oggi si lavora col cronometro in mano e tutto questo non è più possibile. Dispiace perché perdere questo tipo di manualità, secondo me, è un po' deleterio per tutto il mondo del lavoro. Soprattutto per noi italiani che siamo famosi proprio per questo. L'obiettivo è quello di raggiungere un elevato livello professionale e sviluppare le competenze richieste dal mondo del lavoro. Tra gli sbocchi professionali anche quello dell'insegnamento e molti ex studenti sono rimasti al Marconi, dai banchi alla cattedra. Elisabetta e Giulia, due esempi. Ho avuto un futuro garantito sicuramente. Infatti proprio a settembre sono entrata di ruolo presso il laboratorio di ottica, quindi come assistente tecnico. E soprattutto è stato molto bello perché insomma passare dai banchi come studentessa all'altro lato, quindi come una docente quasi, ti rende soddisfatta. C'è un motto, fai il centro con noi e realizza il tuo futuro. Sì, chiunque scelga questa scuola e soprattutto questo corso di ottica ha buone possibilità lavorative in tutta Italia, in tutto il mondo, insomma, si forma. L'invito che faccio ai miei ragazzi è quello di far capire loro che la scuola, lo studio non è un sacrificio, ma l'impegno apre le porte al futuro. E così lunga vita all'indirizzo ottico dell'Ipsia, giovane ma già promettente, dal grande interesse anche la prima edizione dell'evento Idee, talenti e creatività, voluto fortemente dagli studenti e dai docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale a Vocazione Turistica, e in Audi, sempre di Ortona, in occasione della giornata dell'arte e della creatività indetta dal MIUR. Momenti intensi e costruttivi con gli studenti che si sono espressi nei vari linguaggi artistici, presentando i lavori compiuti durante l'anno scolastico. Riccardo e Gabriella. Innanzitutto complimenti per la tua Miss, sempre così eleganti? No, 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 questa è la divisa che usiamo per la scuola, per le grandi giornate, i grandi eventi come è, è la giornata di oggi. Che giornata è oggi? Una giornata particolare? La giornata per la creatività e per far venire fuori i talenti che la nostra scuola ha, e che tutti i nostri ragazzi, diciamo, mettono a frutto in questa giornata, seguendo, diciamo, le loro potenzialità e le loro migliori, ecco, arti che hanno, attraverso il ballo, il canto, la recitazione. Evi sentito artisti, insomma? Sì, sì, chi più chi meno, diciamo, cerchiamo, questa scuola cerca di valorizzare le competenze di ognuno, le proprie, diciamo, le proprie capacità e i propri talenti. Le tue quali sono? Beh, oddio, non spetta a me dire quali sono i miei talenti, spetta a qualcun altro. Però la tua vocazione qual è? No, diciamo che frequento il corso, non il corso turistico, ma il corso di amministrazione di finanza e marketing, quindi, diciamo, sono prediligo un po' più il campo dell'economia e del diritto. Di artistico non c'è poi tanto nella finanza e marketing? No, no, in questo settore c'è molto poco, diciamo, è più nell'altro settore che ci sono più persone che hanno queste capacità artistiche, ecco. Frequento il corso turistico e quindi studio le lingue, arte, appunto, che riguarda la manifestazione proprio di oggi. E, niente, mi trovo bene a frequentarlo anche perché, diciamo, che sapere le lingue al giorno d'oggi è molto importante anche nel mondo del lavoro. E poi il settore del turismo, per anche la nostra regione, dovrebbe essere uno sbocco molto importante. Sì, anche per quanto riguarda i beni che abbiamo anche qui in Abruzzo, che comunque vanno tutelati e vanno conservati, perché, appunto, magari a volte non troviamo i giusti sbocchi, come ad esempio Ortona, cioè non si valorizzano, secondo me, alcuni beni che abbiamo invece vanno sempre di più tutelati anche per il turismo, appunto. Qui si studia, ma ci si diverte anche. Certo, anche la manifestazione di oggi ne fa parte. Due indirizzi così a Leinaudi, amministrazione, finanza e marketing e turismo. Pensate che il 63% dei giovani che hanno scelto di frequentare gli istituti tecnici hanno trovato lavoro nei primissimi anni dopo il conseguimento del diploma. E Leinaudi sente anche forte l'attaccamento al proprio territorio, il dirigente scolastico Marcello Rosato. Questa mattina l'abbiamo voluta dedicare a, appunto, idee, talento, creatività, che significa dare la possibilità, un po' come si fa con i ragazzi del Nautico per la giornata del planetario, dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi al di là della stretta lezione didattica con tutte le loro potenzialità e mettere in atto, realizzare, concretizzare attività che sono parallele ma importanti a quelle scolastiche. Quindi per dare un senso di appartenenza alla scuola. Sono profondamente contento di quello che siamo riusciti a fare in questi anni. Abbiamo rivitalizzato i corsi, abbiamo dieci classi, due corsi completi dalla prima alla quinta del turismo e di amministrazione, finanza e marketing. E sia a livello provinciale che a livello regionale che a livello nazionale possiamo considerarlo in controtendenza positiva. Anche perché in questo momento magari gli studi commerciali non sono tiranti rispetto ad altri indirizzi. Probabilmente le famiglie hanno voluto dare fiducia alle tante attività didattiche e destra che si fanno in questo istituto. Nella speciale giornata è stata allestita all'interno della scuola una mostra di disegni realizzati dai ragazzi del Biennio all'interno del laboratorio di arte, una mostra di quadri della pittrice ortonese Filomena Marinozzi, nonché ex docente della scuola, e una mostra di plastici dello scultore Massimiliano Signorine. Uno di questi ha fatto da scenografia alla rappresentazione del radiodramma realizzato dagli studenti delle seconde e ispirato al racconto di Alessandro Don Marco dal titolo Una notte del 43. L'opera autobiografica narra del crollo della casa dell'autore e dello sgomento dei familiari alla ricerca disperata della sorella sepolta dalle macerie. Il crollo avvenne a causa dei bombardamenti avvenuti nel corso della battaglia di Ortona ad opera dei tedeschi. Beh Francesca, e Marcella, parla, dove sono? Ma parla dunque. Non so, non so, papà è ferito, non so. D'un tratto Stefano si sentì chiamare. Presso uno dei cavalletti del tetto, dai puntoni e le razze ancora ben fermi, trovò la cugina, sepolta fino ad una spalla, con un solo braccio libero e la testa ingabbiata in una catena di listelli spezzati. La liberò con un'accorta violenza, districandole l'altra spalla e l'altro braccio. La deterse la bocca, impiastricciata e polverosa. La carezzò sui capelli. Francesca, dov'è Marcella? Dimmi. Non lo so, non lo so. Mi ha chiamato un momento fa. Francesca, dimmi la verità. Dov'è che non la sento? Dormiva vicino a me, Stefano, ma mi ha chiamata da lì. Con gli occhi lucidi e dilatati, indicava una zona in ombra, sotto una gola di cammino spaccato ed in parte caduto. La vicepreside, Paola Dragani. Leggendo delle pagine dal libro di Don Marco, hanno poi pensato di rappresentare questo momento triste della storia ortonese, che ha visto appunto Ortona coinvolta in una dura battaglia durante la Seconda Guerra Mondiale, nel rappresentare quei momenti, anziché con un elaborato scritto, ma con un progetto multimediale, che ha visto appunto la collaborazione anche del marito della professoressa Villini, Loris, nell'estrapolare i concetti fondamentali e poi rappresentarli con un radiodramma. E poi si è pensato che, visto che avevamo l'aulamagna e la disponibilità del nostro dirigente, che è sempre molto favorevole ad iniziative di questo genere, di celebrare oggi questo radiogramma in una intera giornata, coinvolgendo anche l'artista che ha elaborato i plastici, e quindi di riprodurre, di ripresentare il radiodramma a tutta la scuola, a tutti gli allievi, proprio per sensibilizzarli alla conoscenza della storia, ma soprattutto alla conoscenza del territorio. Noi abbiamo un indirizzo turistico e tra i pilastri di questo indirizzo c'è proprio la conoscenza, lo studio, la valorizzazione, la promozione del territorio. Infatti la disciplina che loro studiano è proprio arte e territorio. Ovvio la soddisfazione anche del sindaco di Ortona, Leo Castiglione, che ribadisce quanto sia importante tenere viva la memoria. Trasmettere la propria storia, non dimenticare, ricordare quello che è successo 75 anni fa e farne tesoro per costruire una società migliore, credo che per chi amministra come me in questo caso, che ho questa fortuna, sia un grosso risultato. Un risultato ottenuto con la sinergia che abbiamo messo in campo ormai da tempo tra le scuole, le istituzioni, i cittadini, le associazioni. Chiunque avesse una testimonianza, su quella testimonianza bisogna investire per costruire il nostro futuro. Presenti anche i registi Fabrizio Franceschelli e Anna Cavasini, che hanno realizzato una serie di documentari sulla seconda guerra mondiale dal titolo La guerra in casa. E poi gli interventi dello scrittore Antonio Tenisci, autore di un romanzo sulla battaglia di Ortona dal titolo Nuvole rosse sotto il mare, Ortona, inverno, 1943. Un'emozione particolare, parlare ai ragazzi adolescenti, non a caso, i personaggi principali del mio romanzo sono proprio l'età di 16 anni, quindi la loro età ancora più emozionante è stare qui a Ortona. Mi è capitato spesso in questi anni di parlare di questo mio libro in giro per le scuole d'Italia, però a Ortona è sempre un'emozione particolare. Da sottolineare inoltre la continua attenzione agli spazi esterni dell'istituto e alle strutture sportive. Una fruibilità estesa a tutta la collettività. Marcello Rosato. Un preside sportivo, appassionato, manco a dirlo, di calcio e qui non mancano anche gli spazi riservati allo sport. Calcio e pallavolo. Assolutamente. L'istituto tecnico commerciale ha una palestra coperta importante che condividiamo anche con il liceo scientifico. e uno spazio antistante verde. Dal primo anno che sono arrivato qui, questo è il terzo anno per deformazione calcistica, chiamiamola così, non lo so, il verde lo abbino sempre a un campo di calcio, non so perché, vabbè. Ho detto qui ci devo fare qualcosa, qui ci devo fare qualcosa e qui ci abbiamo fatto qualcosa. Quindi grazie anche all'autorizzazione della provincia abbiamo realizzato un campo di calcio a 5 in erba e un campo da tennis. Questo sia per dare la possibilità ai nostri alunni di poter praticare attività sportiva ma anche per fare in modo, ed è questo l'obiettivo principale, che la scuola appartenga al territorio, alla contrada, qui a Fonte Grande. E quindi il rapporto tra la scuola che si apre 24 ore al territorio per me si è concretizzato anche così. Grazie a tutti.